Ciao a tutti e benvenuti alla terza parte del video sui tornei multitavolo Rebai in collaborazione con Poker Italia Web e Pokers9 In questa ultima parte del video vedremo come sopravvivere fino alla zona premio entrando nei 25 che si qualificheranno a uno dei tornei maggiori della domenica in questa prima mano abbiamo Kjack dal cutoff vediamo che c'è un raised under the gun alquanto sospetto perché il giocatore è conosciuto e sappiamo che quindi è un buon giocatore e fa un mini raised under the gun con uno stack pari a 10 big blind questo vuol dire che molto probabilmente ha una monster perché altrimenti con una mano discreta avrebbe pushato direttamente preflop vediamo come si sviluppa l'azione foldano tutti il giocatore a nostra destra praticamente morto pusha per i resti noi ovviamente foldiamo foldano anche i bui si va allo showdown vediamo cosa scopriranno i due giocatori vediamo che infatti il giocatore da under the gun come avevamo pronosticato scopre asso asso qui una mossa diciamo abbastanza leggibile se si conosce il giocatore qualche mano dopo peschiamo asso K dal big blind vediamo che foldano tutti fino allo small blind che ha uno stack pari a 10 big blind lo small blind fa un raise standard che visti i bui e il suo stack è abbastanza strano però noi con asso K non possiamo far altro che ripusciare lui ovviamente da committato ci chiama andiamo allo showdown e vediamo leghiamo già un K quindi partiamo abbastanza bene vediamo cosa scopre lui 10-7 la decisione la sua che non mi piace molto quella del raise 3x a questo punto io avrei preferito pushare direttamente in blind war con le sue carte se poi troviamo l'avversario pieno vabbè non ci si può fare niente però piuttosto che raise 4x venire pushati per poi chiamare con 10-7 insomma non la vedo una gran mossa qui siamo stati spostati a questo tavolo da qualche orbita non abbiamo ancora molte informazioni sugli avversari il tavolo è da 7 vediamo che foldano fino a noi che dal cutoff con K donna proviamo a rubare anche perché abbiamo una mano che comunque ha lo showdown a un certo valore vediamo che foldano tutti e ci aggiudichiamo il piatto Rock Contest adesso invece il tavolo addirittura è diventato six handed noi continuiamo ad aggredire quindi con 7-7 ancora risiamo e ancora tutti foldano quindi altro piatto uncontested ancora una mano dal cutoff passo 9 e ancora un raise per rubare perché qui siamo arrivati vicini alla bolla siamo circa 30 player left se non sbaglio quindi vanno premi in 25 la gente ha cominciato a chiudersi parecchio e noi ne approfittiamo qui invece peschiamo KK vediamo che il giocatore alla nostra destra raise a 4x noi tribettiamo un importo tale da mandarlo all in vediamo il resto del tavolo che folda l'original raiser naturalmente chiama andiamo allo showdown lui scopre donna donna il board non lo aiuta anzi esce un K e noi ci aggiudichiamo un bel piatto vediamo all'ultima mano del torneo che io vi propongo come quiz vi anticipo subito che nel caso specifico io qui ho foldato perché mancavano 26 giocatori il 26esimo era cortissimo io foldando questa mano mi sono qualificato però facciamo finta di essere in un torneo normale e non un satellite dove ci sono diciamo 20 player left il nostro stack è in media vediamo come si sviluppa l'azione foldano tutti fino allo small blind che raise a 4x lo small bind è al nostro tavolo da poche orbite però si è dimostrato piuttosto aggressivo voi cosa faresti in questo caso? con questo è tutto io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ciao a tutti ciao a tutti